Buonasera, eccoci qua, venerdì 21.45 Televita, finalmente sono tornato a un mese praticamente di assenze, 4 settimane, mi scuso con tutto il pubblico che mi segue calorosamente, spesso mi hanno anche fermato, ma come mai che è successo qualcosa, alcuni hanno anche adombrato, avete litigato con Richard, non esiste una cosa del genere, è impensabile, è un qualcosa di talmente remoto e talmente lontano che io personalmente ho sofferto in questi periodi in cui sono stato distante dall'emittente, da voi, dalla musica e da Richard, proprio perché non ho potuto interagire con voi, che siete qui e che ci seguite così numerosi e così calorosi. Oggi abbiamo una puntata speciale dedicata a un personaggio che Richard ha già presentato la settimana scorsa, abbiamo una puntata dedicata a Patrick Rondat, un chitarrista che molti vedono come un personaggio che si può accostare alla vecchia scuola dei chitarristi tipo Steve Vaigio, Sadriani, questo è un discorso che non esiste, Patrick Rondat viene in un periodo successivo ed è sempre stato un chitarrista che ha prodotto grandi lavori di grandissimo livello. Comunque su questo io voglio proprio parlare con Richard perché prima avevamo intavolato un discorso, buonasera Richard, finalmente insieme! Ciao Gianni, finalmente insieme! Finalmente insieme! Bisogna fare qualche crocetta nel libro nero della RBO, perché non viene, non si fa trovare, poi ritorna, però la verità è un'altra che ci sono stati anche dei problemi, capisci? Ci sono stati anche dei problemi e devo salutare un'altra persona che è piena di problemi in questo momento, che è il nostro sponsor Angelo Carpenelli, in bocca al lupo Angelo, che sta molto male in questo momento, lo ricordo ma lo ricorderemo ancora meglio più in avanti, il suo negozio Istinti Musicali a Via delle Albizie 22, cioè c'è da dire, non siamo fatti di carne, capisci? La carne si taglia, no, non siamo fatti di ferro, capisci? Ma io voglio essere più forte, capito? Non mi voglio lasciare incastonare nell'involucro umano, no? Del taglio, della forbice, della depressione, attenzione, dice andiamo avanti, ho visto invece molti che sono andati indietro in questi anni. No, sai che fanno loro? Loro c'è una forza che li spinge in avanti e c'è una moglie che li tiene per la coda, attenzione! Capisci tanti musicisti, amici miei? Ma guarda, io anche ho tanti amici che le mogli si rivolgono e gli fanno tizio, siz, tizio, plaz, come il cane, come dici tu, no? Fanno veramente, no? No, no, ma io non posso, non posso, non posso Gianni, non posso più continuare così, comunque... No, anche perché tu vedi gente che, come dici tu, va avanti e torna indietro, tu guarda gli ultimi lavori di Steve Vai, guarda gli ultimi lavori che sono stati fatti da altri chitarristi importanti, da Frank Gambale, guarda i lavori fatti anche episodicamente da chitarristi come Red Beach, tutta quella vecchia scuola, Ricci Cozzen, Alex Skolnick che ha riprodotto quel lavoro di Metallica suonati jazz, che cosa significa questo? Cioè, è assurdo, è assurdo! Paul Gilbert! No, Paul Gilbert rappresenta secondo me l'apice, proprio l'apice, quella veramente è uno che suona... Una festa tra amici che fa i pezzi di acqua! Lui registra e lo vende come suo disco ufficiale, assurdo, assurdo! Registrato malissimo, tra l'altro! Assurdo proprio! No, ma io vorrei, vorrei effettivamente far vedere la rappresentazione vivente ed emaciata della desolazione di Steve Vai! Ricciarla ha scovato! Ti dispiace, te la facciamo vedere dopo, la vuoi vedere subito te? No, dici di me, non ci entristiamo da subito! No, la vengo un attimo come chicca! Capisci? Allora... Lo so che tu sei... No, perché Gianni ha ragione! Io voglio levare le brutture! Io ho detto, chi ha fatto un disco come quello di Steve Vai e l'abbiamo presentato in una puntata veramente dove io ho bruciato la copertina, mi sono messo per terra, c'era quella relazione con quelle due note che sembrava feelings di Morris Albert! Non c'è nessuna attinenza col suo passato! e uno dei migliori chitaristi viventi che fa un disco così schifoso, ci doveva essere qualcosa che non va nella sua mente! E lì Gianni ha ragione! Allora, a questo punto ti do ragione, dato che è passato un po' di tempo, c'è qualcosa che non va! Era un bel ragazzo, ve lo ricordate? David Film, con i Whitesnake, con gli Alcatraz, con David Lee Roth, da solo! Per cui ero sicuro, sentendo la musica, che c'era qualcosa che nella testa non va! Capisci? Perché uno così bravo non fa un disco così mixato, male, fatto male, con idee brutte, schifose! E Gianni lì ha ragione! Allora lo facciamo vedere due volte! Guardate Steve Vai ora! Sei pronto, Simone? Siamo pronti a far vedere Steve Vai? Ecco! Praticamente si vede bene, Gianni, che tu vedi meglio di me? Emaciato si vede benissimo, distrutto, sembra quasi depresso, in una foto ufficiale... No, è incredibile che... Questo è Steve Vai adesso! Sembra un cadavere! Sembra un cadavere! Io direi, l'onorevole Fassino sembra il ritratto della salute! Il ritratto della salute, Fassino, a paragone! Rimacciamolo vedere Steve Vai! A me dispiace, per carità, però voi vedete che io ho sempre ragione! Perché questo è il risultato! Se voi vedete le sue gambe, le sue gambe sono inesistenti, sono due ossa! Due ossa! Allucinante, allucinante, allucinante! Fortunatamente per noi la qualità e le idee non mancano, specie in Francia. Oggi geograficamente ci rispostiamo in quell'area che ha dato i Natali a questo grande chitarrista che è appunto Patrick Rondat. Patrick Rondat per me è una conoscenza vecchia, ma perché lo è? Perché Richard mi ha fatto conoscere Patrick Rondat già dai primissimi lavori, dagli albori dei tempi. Ed era già un mostro, cioè era già un chitarrista che non aveva rivali. E questa sua mostruosità ha continuato sia nelle composizioni, sia nella tecnica, che è eccezionale, sopraffina. Oggi se noi avessimo a disposizione una trasmissione di un'ora passeremo integralmente tutti quanti i brani. Quello su cui invece ci andiamo a concentrare adesso sarà una interazione fra una parte del quinto brano del nuovo lavoro di Patrick Rondat e sospenderemo una parte acustica, anche se Patrick Rondat suona molto bene la chitarra acustica, quindi nel finale riprenderemo questa sua notevole capacità di prodursi anche sulla chitarra acustica e tagliando questa parte, vi dicevo, nel quinto brano torneremo ad ascoltare una sola allucinante dello stesso brano. Adesso lo trasmettiamo, questo è Patrick Rondat e il suo nuovo lavoro. Rondat e il suo 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 lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io, Richard Benson e Gianni Neri, che ricordo questa trasmissione, non l'abbiamo ancora detto, va in onda il venerdì a un quarto alle 10. 21 e 45. 21 e 45 su Televita e si chiama cocktail viciniale, io voglio testimoniare una cosa, di come Patrick Rondat sembra ancora più mostruoso sulla chitarra acustica. Per cui saltiamo il pezzo successivo e chiuderemo col brano acustico. Quanti minuti abbiamo a disposizione? Tre, quattro minuti? Quattro. Quattro minuti, la perfezione. Gianni, parla di allora. No, quello che volevo dire è che non è un episodio a sé il fatto che Patrick Rondat sia un mostro alla chitarra acustica. Anche Steve Stevens, che è uno dei chitarristi più accreditati, che abbiamo presentato anche in altre occasioni, lo conoscono tutti, chieriste Billy Idol, probabilmente con Billy Idol nel disco nuovo che uscirà di Billy Idol, è un mostro alla chitarra acustica. Perché ha fatto dei dischi impegnati con Terry Bozio e con Tony Levin, diciamo o no? Perché se tu dici solo Billy Idol, questi dicono, ah magari ha fatto le cose commerciali. Ha fatto gli atomi, i playboys, ha fatto tante cose, ha fatto cose certi pure, ovviamente. Sì, sì, cose importanti, colonne sonore. No, ma Steve Stevens è un chitarrista di tutto, rispetto a un musicista molto importante. Patrick Rondat è essenzialmente un chitarrista elettrico, ma è anche un mostro alla chitarra acustica. Lo è anche Skolnick, lo è stato per certi versi, ma Patrick Rondat è un'altra camminata. È un'altra categoria. Adesso a me mancano solo due chitarristi della vecchia scuola che hanno introdotto la nuova metodologia dei mostri, ovvero Invi e Mansi, che lo voglio sentire assolutamente, perché quello sarà il disco nuovo. E poi Richard, purtroppo ci vanno cenni vari, qui abbiamo poco tempo. Io però, prima di chiudere, l'ultima volta, Simone mi deve fare un regalo. La foto di Steve Vai. Mandalo Nato. Come si è ridotto, Steve Vai, a carne ed ossa, una larva umana, quello che avevo detto io, qualcosa non va. A me dispiace, mi dispiace molto perché sto parlando di uno dei più grandi chitaristi dell'epoca, della storia della chitarra che ha fatto un disco schifoso, un disco di merda, e viene testimoniato dalla sua fisicità, ormai... Alla fine. Alla fine. Godiamoci Patrick Rondat acustica. Sì, però adesso Rondat col pianoforte di Francis Lockwood, fratello del violinista francese Didier Lockwood, da un altro disco, da una compilazione, ultima uscita, Patrick Rondat, la chitarra acustica, fa paura anche ad Aldi Meola! Anche ad Aldi Meola fa paura! Anche ad Aldat, la chitarra acustica! Anche ad Aldat, la chitarra acustica! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti